Gormiti, potenza degli elementi, potere del viaggio! Combatti, Achilos! Bersaglio localizzato, posizione ottimale. Achilos è pronto ad annientare il nemico Darkhan! Peccato che anch'io abbia una sorpresa per te, gormita da strapazzo. Furia glaciale! Muro oscuro! Il bersaglio ha respinto l'attacco. I vostri attacchi sono vani contro il grande potere di Moidus. Esatto! Nessuno ci può battere! Aumenta la potenza, ridurremo il polvere e quell'inutile scudo. Furia glaciale! Sai, il tuo ghiaccio mi provoca appena qualche brivido di freddo. Forza, soldati! Attaccate! Ma contrattaccheranno? Affrontateli subito o affronterete presto l'ira di Moidus. A voi la scelta! Ma se le cose stanno così... All'attacco! Ehi, ma qui è pieno di Darkhan! Non preoccupatevi! Se dovessero colpirci, Aoki ci libererà! Aoki! Molto bene! Adesso preoccupatevi! Le cose si mettono male! Ho bisogno di più energia! Ma io non ci riesco! Credo sia arrivato il mio turno! Onda Oscura! Achilos! Coraggio, soldati! Andate a prenderli! È stato bello conoscervi amici! Beh, alcuni più di altri! Coraggio, Icor! Fa qualcosa o ci arrostirà! Sloggo arrosto! Ancora con il tuo sloggo? Ora non è il momento? Un attimo! Io a volte per mangiare sloggo sono costretto a passare di camera in camera per nascondermi dalla mamma! Ci sono, Riff! Devo sparare come voi del popolo del fuoco! Come noi del fuoco! Sì, ma certo! Mira quella roccia! Quella laggiù! Quale roccia? Quella laggiù a sinistra! No, l'altra sinistra! Tutto chiaro! Achilos! Bersaglio inaspettato! Improvvisazione! Ma che tipo di tecnica è questa? Una tecnica stilosa! Onda oscura! Achilos ora! Furio glaciale! Ma che cosa succede? Inutile muro oscuro! Sì! Salutate Voidus da parte nostra! Congratulazioni, Ikor! Ce l'abbiamo fatta! Gormiti raggiungibili! Gormiti raggiungibili! Chi mi fermerà? The land is back! The legend is back! Dormiti! Gormiti! Gormiti!